Numero 1 Dea Rouge, Filippo Gallo per il training di Saverio Gallo, numero 2 Dandy Mail, Antonio Simioli per Domenico Minopoli. Non corre con il 3 Demonil Trebbe, con il 4 Diamond Troppo, Alessandro Gocciadoro per il team omonimo, al 5 Diabolic Knapp che trova Marcello Di Nicola in sediolo in sostituzione di Roberto Vecchione per Olga Eler. Numero 6 D'Amore Mail, Alessandro Dettoris per il team Bellay, numero 7 Don Roby, Antonio Di Nardo per Gennaro Casillo. L'allineamento che è completato ai 150 dallo stacco, poi si ritraggono i numeri esterni. Da largo è veloce con il numero 5 Diabolic Knapp che si insedia al comando nei confronti di Diamond Troppo. Più indietro con l'1 Dea Rouge. Sullo slancio ha guadagnato 3 o 4 lunghezze, Diabolic Knapp ora cerca di ricucire Diamond Troppo, complice anche un po' di rallentamento da parte del Battistrada che giunge al paletto dei 400 in 28 e 8 con Diamond Troppo che va per linee esterne e va a rilevare il comando dopo 550 metri di corsa. Tatt'è che ai 600 il portacolore di Pachinorse è leader in 43 appena abbondanti. Diamond Troppo, Diabolic Knapp, Dea Rouge, poi via via gli altri capeggiati a Dandy Mail quando sulla piegata di destra il protone è in fila indiana e gli 800 vanno via in 58 e 7. Andatura comunque che si mantiene sollecita, quella imposta da Diamond Troppo quando si va di fronte. Ora il gruppo si raccoglie un pochino il chilometro del Battistrada in 1.13.3. Diamond Troppo che comanda sempre nei confronti di Diabolic Knapp e Dea Rouge. Dal fondo del gruppo prova a muovere anche Don Robin, metà della piegata conclusiva. Diamond Troppo leader nei confronti di Diabolic Knapp. Gli altri che stentano a venire avanti, addirittura d'arrivo Diamond Troppo che aumenta il proprio vantaggio. Ora sono tre le lunghezze ai 200 conclusivi nei confronti di Diabolic Knapp e Dea Rouge. Poi gli altri Diamond Troppo che deve far scorrere gli ultimi 150 metri di corsa con il vantaggio che aumenta. Diamond Troppo che viene così a concludere al primo posto, mentre per il secondo sono molto vicini Di A Rouge e Diabolic Knapp. Forse quest'ultima è riuscita ad acciuffare l'avversario all'interno, ma bisognerà rivedere la immagine stretta. Intanto 42 spaccati gli ultimi 600 metri, uno 55 e 3 il miglio di Diamond Troppo che ha fugato ogni tipo di perplessità. Più sicuro sicuramente in corsa che non durante la sgambatura. Allievo del team Gocciadoro per i colori della Pachino Orse che viene a concludere. Mentre per il secondo, e sono davvero vicini, c'è lavoro per il fotografo per separare Dea Rouge e Diabolic Knapp. Il tempo al chilometro che recita una misura nell'ordine dell'1, 11,8, 11,9 per Diamond Troppo e Alessandro Gocciadoro. Vince il favorito Diamond Troppo con Alessandro Gocciadoro in sediola. Al secondo posto invece Diabolic Knapp numero 5 e poi Diar Rouge numero 1.